Personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava dei Tirreni ha proceduto all'arresto di tre persone. Due pregiudicati di 40 e 47 anni, entrambi di Cava dei Tirreni e di un cittadino marocchino 47enne di Eboli, ritenuti responsabili di reati di riciclaggio di autovetture rubate e di installazione di apparecchiature atte ad impedire o interrompere comunicazioni telematiche. Con tempi rapidi, auto di grossa cilindrata venivano smontate e i pezzi rivenduti come ricambi, una procedura illegale che avveniva in un'officina altamente tecnologica allestita in un capannone nella zona industriale di Cava dei Tirreni. Gli agenti hanno sorpreso i tre mentre smontavano una macchina risultata poi rubata la notte precedente nel Basso Lazio. La dinamica era la seguente. Ladri rubavano le vetture che venivano trasferite nell'officina attrezzata quasi simili a quelle di Formula 1, dove le auto diventavano auto di cambi. La banda, con un particolare e sofisticato congegno elettronico, metteva fuori uso l'antifurto GPS e GSM. I poliziotti durante la perquisizione nel capannone hanno rinvenuto la somma di 2.500 euro in contanti, sottoposta poi a sequestro. I tre sono stati dichiarati in stato di arresto.